Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove io, Mr.L, sarò completamente inutile e guarderò i Chris giocare da solo. I Chris deve cercare di finire il gioco di Dark Souls facendo una run senza morire e senza falò. E senza falò. Senza falò? Sì. Ah, vai che tanto se vai... Ma no, per ricaricarti da Estus. A parte che moriamo non lo stesso, quindi. Se vai ricaricarti da Estus e falò non puoi. No. Uno l'ha fatta e lo faremo anche noi. No, Estus sì. No, lo farò sì. Il gioco è mio, regola è mia. Il gameplay verrà pubblicato anche se Icris farà schifo. Esatto. Il primo tentativo, il secondo tentativo, fino a che o non getteremo la spugna oppure Icris non riuscirà a concludere il gioco. Siamo un angelo perché a posti sembrare vecchi sembriamo luminosi. Guarda appunto, i capelli sono luminosi, non sono vecchi. Cosa c'è qui? Vabbè, lo sappiamo tutti, vice umana. Ok, cerchiamo di andare veloci e non cazzeggiare. Ok, dai. Cerchiamo di, vabbè, anche di cazzeggiare. No, no, veloci, roba serie vogliamo. Serie? Non so che mai deve essere serie. Ti sembra... Fancolla! Ti ho detto che ho il vizio di buttarmi nel falò e non voglio farlo. Non saltiamo queste cose. Quindi dovremmo andare avanti solo con gemme vitali. Sì. Ah, no, c'è una benedizione divina che recupera la vita. Qua le robe inutili saltiamole. E andiamo diretti a Maiula. Sì, giusto. E... Vabbè... Ah, è vero, siamo offline. Mi mancavano i messaggi che ho scritto preso e sono qua in mezzo. No, qui magari, ragazzi, online, magari arrivava lo spirito rosso bastardo per l'interno del cazzo. Ah, ci sono anche... Ci sono anche offline. Ah, cosa sto facendo? Ah, pensavo che parlassi. Sì, ma... Aspetta. Ah, posso fare il... Il contrattacco con il pugno. Uno che arriva con la spada, tu che fai il contrattacco con il pugno. Dovrei spezzarmi la mano. No, nemmeno avesse un braccio di fu... Aspetta, sbaglio qua c'era un... No, non riesca il tutto per tutto. Non c'era il niente, una campana da fierico. No, c'è una mazza. No, ma abbiamo una spada. Una mazza è lente. No, 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 no. Mazza senza morire è lenta. Ma lì c'è una campana da che? Se manchi un caso, se manchi un colpo, se... Se ne è la cacca. Sì, perché sei lente. Fate anche nell'uno, ti diceva... Ascia, oppure darmi grosse, dicevano... Se manchi un colpo con queste qui, di mani vulnerabile, perché... L'avversario è tutto il tempo. Allora, qui non andremo qua perché sono... Sì, vabbè, che palle. Comincia un po' la gara. Già, iniziamo a vitale. Comunque vabbè. Ok. No, qui non andiamo qua, eh. Però c'è uno scudo, quindi ci serve. Ah, ok. Ok, non ci amico in fronte, però questo mi piace. Ah, fammi vedere la cosa, Natio. Ti piacerebbe far vedere i fan cosa dice di questa corazza? Che magari gli interessa. Armatura del falconiere. Beh, cosa dice? Oh, lo sanno tutti, cazzo. Eh, io no. Il Volga sono timorosi, quindi... Sì, in pratica sì. Infatti sono un po' stronti nel gioco. E davanti tu hai il suo scudo di... Eccolo qua. È un Mimic e ti ammasta sul colpo. Io cerco di evitarli. Parma Cremisi, bene, già mi piace. No, non mi piace fare niente. Aiuto. 75, va bene. Ne troveremo. Dovrebbe anche abbinarsi bene la corazza, perché è rosso il Parma Cremisi. Allora, è come quello là, dell'alfanteria, solo che dipinto questo. Ed è un po' più grande, ho notato anch'io. Vabbè. Oltre, devi fare il perfettino. Perché siamo così silenziosi? Eh, non lo so. Siamo concentrati. Io sto dannata meglio. Io sono concentrato. Tu non stai facendo niente. Mi sono stati scadini del condominio di Krizza, 4x4, ragazzi. Anche con le mani? Mi abiti così in alto? Perché non ti termini appartamenti appena più grande? E perché sei così povero e abiti in basso? Muto. Che sono sveglio e pagano meno. Che cazzo vuol dire? Ma come dire? E perché abiti così in basso? Perché io ho le gambe. Che vuol dire? Perché abiti così in alto? Così l'appartamento vi costa di più. Esatto. Una vista migliore. Sì, ne fateci una vista carina. Io sono più ricco. Vabbè, questo forse no. Ehm, guardate che fiero. Guardatelo. Non siamo vecchi, siamo dipinti. Guardate, lo sembrabili. Alla faccia, alla faccia di un bambino. Con la barba da vecchio. Grazie a Dio, tanto adesso ogni personaggio è abbastanza inutile. Perché la faccia, cioè... Devi andare bardato sotto a chi, piccolazzo. E tanti, ma in caso, per metà del gioco buono sarai morto. Perciò non si vedranno neanche i dettagli del viso. Beh, si notano i capelli a malapena. Il gioco sono zombie. In realtà, se è zombie, mi ha metà del gioco, se è sotto alla colazza. Eh, sto rischiando, sì, ma... Dobbiamo farlo. Non è un mimi perché sono memoria tutto ormai. E figi umano non ci servirà un cazzo. Piano, piano, piano. Non si abbina la colazza. Dobbiamo far veloce o no? Eh? Dobbiamo far veloce o no? Sì, meno non farlo venire fuori meno di dieci minuti. Come facciamo a fare uno speedrun di dieci minuti? Cazzo ne so. Doppio colpo! Cosa? Perché ti ricordi, noi avevamo un pugnale. Ah, giusto, che povera... Io avevo un pugnale, non tu. Attaccami. Uno, due, fatto. Però qua dobbiamo stare attenti, perché ce ne sono... Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. 75%. Madonna, mi ha schivato. Aspetta, sbaglio ne arrivano dietro da qua? No, da davanti invece. Nell'uno, ragazzi, stavo dicendo, guarda lì che c'è qualcosa di sì. Sì, lo so, no, 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 ce n'è uno dietro che ti va l'imboscata. Quindi è meglio di non andarci. Ok, andiamoci. Nel caso, guarda se gioccoli nel metto, che siamo più mesi meglio, col 3 da raggio sempre buono. Nell'uno, ragazzi, guardate che gli scudi sono, come dire, sono molto più utili. Tipo? Cioè, nel senso che, nel senso che si trova anche gli scudi che magari non riescono. Sì, o saremmo, io posso fare questo, però. Sì, cioè, anche lì, anche nell'unici sono gli scudi in legno che magari proteggono un po' meno. Poi, portavia, gli scudi erano comunque, nel 90% dei casi, proteggevano tutti i colpi, salvo magari i colpi di quella più potente di tutti o con effetti particolari. Quindi invece gli scudi, veramente, proteggono bene. Ci sono addirittura scudi enormi che proteggono il 70%, come si chiamano. Ah, sì, è vero, quello dei ribelli. Però di magia ti proteggeva tutto. Eri salvo da tutto. Anche se, se Dio scendeva in terra e ti colpiva, tu proteggevi anche quello. Ma tu c'è un bombardiere sopra. Eh, lo so. Vabbè, guarda che non ci becca se andiamo al... Ma sbaglio? Stiamo prendendo un po' meno danni? Comunque, spada larga mi piace. È quella che abbiamo. Sì, è buona. Ah! Uno, due, tre. Dobbiamo ancora subire un colpo. Vabbè, a parte quello dell'arciere prima. Sì, vabbè, ma di me a conto. Ok, ok, resti in movimento. Ok. No, grazie, no, ragazzi. Spada dritta spezzata. Sì, saltiamo le robe che possono danneggiarsi. C'è tutto. Saltiamo il gioco, vaffanculo. Siamo subito alla fine di un gioco che hai già. E se è uno vecchio. Non so perché non mi piace essere vecchio. Non è vero. Io volevo creare un personaggio indiano. Eh, vabbè, ma perdevamo troppo tempo. Basta da farlo a nero. E tre fatti. E' razzista? E' razzista? E' salto se ti viene. Quanti sono qua? Due mi sembrava, due, tre. Ok, tre, tre. Per me uno ci si giubbucò da dietro. Ah no, niente, ok. No, per me ci c'avano. Non ti salto e ti gioco lì subito. Ok. Sono in tre. Fanculo te le tue idee di merda. Non ti ha fatto niente di danno. Oh, tutto grazie alla mia abilità. Ah, tutto grazie alla mia abilità. E ci attacca all'insalto, sono in tre, cazzo. E non abbiamo neanche ucciso quello. Io non mi farai, non mi sarei mai fatto a calpire. Perché intanto non sai neanche giocare. Ragazzi, quelli che hanno giocato a Dark Souls 1 sono pro, mentre quelli che hanno giocato a Dark Souls 2 sono di amici. E quelli che hanno giocato prima il 2 e poi all'1? Prima l'1 poi al 2? Sono di nuovo anche quelli? No, ma sono stati declassati per aver giocato il 2. Allora, scomento che il 3, il 2 è meglio del 3. Che poi il 3 è meglio del 4. Andiamo del 3. Ragazzi, io il 3 ho visto, mi è sembrato veramente molto difficile. A livelli frustranti però, ragazzi. Non a livelli tipo difficili, i boss che rompono il cazzo, vogliono i batti, poi c'è il minion che sono facili. Proprio difficili, nel senso che è proprio fastidiosi. Ma ti ricordi come ti è ciavato la prima volta? Sì. E non voglio ripeterlo. E cosa faccio? Fai, ora che la freccia arriva, su sei già morto mille volte, per via di altri fattori. Ed è andato. Quello di sopra, vabbè. Ma sì, lo prendo dopo. Fatto. Croio, vieni qua. Ok, ok, ok. C'è anche una raccetta di merda. Quindi lì vediamo se ti danno l'emmetto, se hai fruttato bene. Ti danno il bucle. Il, il, come si chiama? Ah, il cappello scudo. Esatto. Mettiti il cappello e il mio scudo. No, devo prendere il mio elmo. Eh sì, il mio scudo elmo. Il mio elmo scudo. Bucler, che prodotto che è? Non prendermi per il culo di nuovo così, ok? Non protegge un cazzo, un cappello. Cosa vuoi che protegga? Va bene, magari anche io. Ma è adatto, è adatto a, che ne so, a questi è adatto. 50%? 60%? Vabbè, il 65% mi sembra. Ah, poco. C'è anche meno dello scudo che ci ha trovato. 1, 2. Vabbè, è un pezzettino di ferro, ho buttato lì. Non è che voglia di... Ragazzi, le lezioni di storia di Mr. L. Ricordatevi, ragazzi, che... No, ci serviva quel cavolo di gemma. Sì, qui su Dark ci sono stipendi, non tipi bardati sotto chilometri di corazze, che se ne vanno in giro... No, aspetta, aspetta, aspetta. Forse anche meglio. Questo cortoscudo qua, il bucle. Mi vergogno a dirlo. Non puoi utilizzarlo, perché? Ah, non è benestezza, ok. Frega, frega, cazzo. E tu cosa vuoi? Lezioni di storia, potenziati un po' che bisogna di potenziarti. No, dobbiamo andare a cazzo duro. Ah, scusa, io non mi faccio la strada a piedi a Maggiula, eh. Sai che non possiamo usare i palò? Ah, giusto, quando bevamo... Mi stai pigliando per ricopetta? Corpisco, come stavo dicendo. Nel Medioevo, ragazzi, cioè, qui si vedono gente bardata con i mignotti, che se ne va in giro, quindi, che se ne va in giro con scudi enormi e torre. E in totale, nel Medioevo non funzionavano così, ma sempre non funzionavano così la roba. Più la corazza è grande, più lo scudo è piccolo fino ad scomparire. Infatti, nel Medioevo... No, siamo oltre. E io non voglio stare in... Va bene, non siamo in federal, ma va bene. Infatti, come stavo dicendo, cioè, nel Medioevo, quando erano bardati sotto chilometri di corazze, non avevano gli scudi, avevano soltanto le spalle due mani. Mentre i romani, oppure anche gli egiziani, che lì, in epoca più antica, avevano corazze leggere, oppure non ne avevano, avevano gli scudi grandi, con gli arti attangulari, che proteggono bene. Infatti, qui, per essere sinceri, diciamo che più le corazze sono grandi, più gli scudi più sono piccoli, e viceversa. Più le corazze sono assenti, più gli scudi sono grandi. Qui hanno sputtanato un mezzo al Medioevo. E per compensare? Sì. Si muovono in modo in giro con l'armatura di Avele e con il Buclere. Eh, ma sarebbe questo neanche con l'armatura di Avele, non dovesse neanche a prendere il Buclere. Ma io non ho proprio dovrei andare a mani nuda. E accetto la tua decisione. Accetto la tua decisione. Sì, sì, l'ho usata troppo spesso questa definizione. E un'altra volta, dai, un'altra. Ti ricordi, qua all'inizio, quanto ero il nube che ti hanno insoltre, avevo cinque volte qua. Intanto non ero nube, io vorrei vedere te con questi qua col pugnale. Se tu vorresti vedere... Nudo col pugnale ero. Io ti ho battuto Sif, no, io nel nube ho battuto la regina Alagno, come si chiama, la regina Alagno, senza, con soltanto due fiaschette Estus, tra i guardi di raggiungibile qualcun altro. Io lo sentinelli della rovina, da su. Il golem di ferro ha la prima volta. Io che ho battuto Sif, il lupo. Io che ho battuto le centinaia della rovina, da solo. Non fidati, il due non è niente rispetto all'uno. Il uno non è niente rispetto al due. Guarda che qua viene fuori una civil uore. No, fidati ragazzi. Ragazzi, se potete, non prendete il due, ma prendete direttamente l'uno. Ma io l'ho preso solamente perché, perché... Non avevo voglia di bestemmiare di là. Si è fatto saltare in area, coglione. Noi non possiamo neanche potenziarsi l'equipaggiamento, ragazzi, perché... Non è che non possiamo, non voglio. Ma va bene, vediamo se si riesce. Avevo, io non mi faccio lasciare da piedi, ripeto per l'ennesima volta. Aiuto, un arciere. Ciao. No, aspetta, qua dovrebbe salirne uno, in pratica. Eh, infatti, ti mettono un vent'è dietro. No, l'arciere sta fisso. Vedi quella macchia lì? Vedi quella macchia che si muove? Mi hanno colpito. Guarda la fleccia che ti ha passato lo scudo. Aspetta, dove? Dove? Ah, no, è sparita, peccato. Scusa di me. Eh, vedi, vedi sto qua, vedi? No. Lavelo... Nell'uno è schivata, erano l'anima di Dark. Si, ma io schivo poco perché sono un tank, non sono uno schivamano. Se schivo prendi tutto il colpo. No, 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 tu non scendi qua da me, ok? Sai che se resti lì di scendere? Si. Come quella volta... Quella volta là che l'avevamo affrontato da sole. No, 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 ti scende. Io... Molto bene. Ah, paura, eh. Paura del sommo me. Oh, e ti prego vai giù. Si è animato uno dietro di te. Non lo sapevo. Vieni giù. Hai le palle di venire giù. Dai, dai. Sto aspettando te, tutta la tua combricola. Morirà il primo boss, lo sai. E... Qual è il primo boss? Non lo so, non so come dire. Ok, moriremo. Cosa? Ho visto anche calma. Ho detto, ora ti fotto, puttana. Occhio, ho visto una freccia sbucante da... Tratta, è bellissimo. Perché magari quello lì mi dice, ora ti fotto da dietro con l'attacco sorpresa. Però il gioco è in 3D, quindi non è in gioco, non è in gioco, ma in terza persona. Come hai fatto a vedermi da dietro la visuale? La visuale, è in terza persona. Nooo. Perché io non ce l'ho? Non sei il personaggio. Oh, cazzo. Cazzo. Due. Allora, è stato più facile di quanto dovrebbe essere questo punto, eh? Aspetta, ma è la parte giusta al me? L'amor di Dio. Ah, sì. Avrei nerdato ormai mille partite qui su D'Archus. Saprei tutto quanto a memoria ormai. Barmi, dai, sbarmi, dai. Ah, cogliono. Hai incazzato, sta attaccando dal caso. Bastardo. Io mi odio. C'è un passaggio segreto, dico, sai? Eh, lo so. Guarda, non sa mai niente. Io non mi suicidio. Non mi serve un cazzo, per cosa? Per il falò che non uso? Infatti. Ma allora, è si incazzato. Per far capire che sei un pro e sei le mole, sai le robe. Sì, vabbè, ma l'hanno già visto nell'altro gameplay. Perché devono ricordarlo? Se non l'avete visto, guardatelo. Si chiama persecutore, usa volo. Occhio che ha lo scudo alzato. Eh, lo so che ha lo scudo alzato. No, non lo vedo. Non so perché ripeto robe io. Ma non funziona! Devi girargli dietro. A sentirlo. Anche nel luno. Sì, sì, ok, lo sai, lo so. Ma no, ragazzi. Gli scheleti erano cazzutti. Qua invece sembrano fatti male, lezzi. Non sono stare in piedi. Non sono stare in piedi, eh. L'uno invece, ragazzi, gli scheleti, insomma. Intanto la colazza non valeva il design. Ma vabbè, non è neanche fatto male. Ma l'elmo è improponibile, ragazzi. E' brutto come il culo, lo so. Nell'uno, vi ricordate quando erano cazzutti? Io so che avevano proprio l'assetto lì, la guardiata. Qui sono tutti quanti sbriilenchi. Qua sono ossa messa a casa. Apparivano cazzutti. Io a Pete non ci parlo, mi sta sui coglioni. Perché? Perché poi devo entrare lì e c'è una trappola lì. E io non rischio. E c'era quello lì. Ho avuto il dubbio che non avrei connesso le cuffie a... Attiriamoli, 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 attiriamoli. E che non funziona sto fattiglio. Aspetta, io non posso neanche... Cazzo. Mi è arrivata dietro figlio di tu madre, tu madre puttano. Sì, ma vieni qui. Uno, due, tre. Qua. E va bene, ma mi è preso qui, sono preso o sono stronzo? Ero, ero già sto... Siete che l'armatura proteggono? Io mi ricordo quando ho visto il tuo gameplay. Che io lo tengo da occhi, Chris, io gli dico, tu, perché a volte è così, gli monitor... Cioè, gli tengo da occhi i video per vedere come va. E avevo visto che gli toglievano veramente molta più vita di come adesso, cioè... Forse le corazze nel 2, a meno che non sia il nuovo gameplay. Si sentono un po' più che nell'1. Eh sì, no, nel New Game Plus. New Game Plus è il suicidio, nella nuova modalità del suicidio. Sì, perché... Non fatelo. Tutti ti dicono, puoi cominciare con la corazza fiera, però lei di Hebel che... Però ti ritrovi i nemici che si trovi all'ultimo, all'ultimo livello che ti tolgono il doppio tipo. Perché quello l'hai sbucato da... In ogni caso, ti danno la possibilità di partire con le corazze forti. Ma è come non avere perché toglieranno il doppio. Quella cosa ha fatto, scusa? Quella l'hai traccato? Vabbè, da andiamo di qua. Occhio che ti vengono dentro da dietro. Non so. C'era alcuna modalità poter differenziare l'età del personaggio? L'età? Sì. Ah, in che senso l'età? C'era che magari facciamo vedere venire fuori più rubi, un volto o meno da bambino. Sì. Ah, ok. Ma non lo so, non ho guardato. C'era la tua fretta è nera. Oh, è una speederano o no? Oh, scudo grande di cuoio. Scudo grande di cuoio. E già mi piace. È quello là cazzuto che protegge il 95% dai colpi. Ed è di cuoio. Dove è legno e sopra cuoio. Non pensate legno e basta. Ok, ora c'è l'ultimo gigante, che non è tanto ultimo perché non ho trovato il 3-2 e la di là. Vivi? Sì. Ma non come sto qua tutti un albero mortificato che cammina. No, sono dei giovincelli pompati, alti come un gigante, con due clave. Tu sei altamente gigante? Sì. Ah, ok. E poi... Ah, già, lo scudo non serve un cazzo perché anche se tu hai quello di Evel... E... Tu... Eh? Volevi pararmi colpo? No! Ti prendi tutto al danno, figlio di puttana. Allora, e sti tizi con gli scudi cominciano davvero a stamici coglioni. Ok. Io non li giro in tondo perché mi inculano. Ah. Qualcuno mi spiega cosa è successo? Eh, sta vicino a backstab, però non ha funzionato. Ma hai... Madò. Le collisioni con... Lo evoco o non lo evoco? Lo evoco? Sì, sì. Ok. Ma sto qua è quello di Evel con quei due scudi... Levate. Nell'uno, quando facevi un backstab a un tipo, sapevi già che quello lì era andato. Invece i backstab sono abbastanza inutili. No, è inutili. Mica tanto. Cioè, sì, ma non sono forti come alguno. Beh, un po' senza... Beh, non tanto senza... Non mi interessa il filmato, ok? Sì, sì, vai veloce. Potete vederlo a tutte le pagine dei filmati. Guardate che lento che è. Ah! Non c'è la vita che ti scopre in pochi pochi. Vabbè, tu in pochi! Cioè, che abbiamo tempo qua per... Guarda, lui è il mercenario che lo prende. Non gli fa un sacco, non niente di anni. Prende lui! Vabbè, a parte che era matura di Avel. Ma io cerco di schivare il più possibile perché è una scaga. Mi sa che mi fa abbastanza paura per me. Perché è un gigante. Sì. Vabbè, il signore dei giganti è lui, solo che è uno spadone. Ah. Vabbè, però... Cioè, aia! Vita, vita, vita. Ok. Non permettere questa rana non finisca ora così. Non può finire così! Non finirà mai così! Lui non è ancora attaccato, lo sapete, vero? Chi? È vero. Vabbè, è fatto per essere colpito, eh. Guarda che figata come si protegge. Lui dice... La gente si protegge da due lato, da un lato. Solo qua dallo scudo. Ma io sono pro, mi protegge da due lato. Tipo, come attacchi di schiaccio. Dai. Li colpisce... Ma che scudi sono? Che non lo so. No! Sono inutile, non ho più voglia di vivere. Mi strappo un braccio. Guarda che sei baggato là! Ok. Se state sotto al culo, avrete la vita salva! Per sempre! Ho preso una paura. È indietrezzato un po'. È indietrezzato un po'. State indietre al culo, di sotto al culo e vivrete cent'anni. Le vivi cent'anni. Sotto al culo! Ah! Sotto! Ripeto. Sotto al culo. Oh no, è... È disincorazzato l'altro che quando subisci i colpi non cade neanche. Occhio! Vi... Avete visto che bug? Cosa è giusto? La gamba... E la gamba era finita super... Super impendiante. Ah, è l'ordine del giorno. No. Ah, io. No. La città. Eh, no. Nei guai, non è. Vita, 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 vita. Vieni a prendere! Io sono... E... L'eroe che deve salvare... Che... Drangleic, giusto? Ma... Sono domani, domani. Ah, non sono domani. No. Cazzo, è uno scudo sulla sinistra. Ah, non sono domani. Ma non distrarmi in questo modo. Ok, sta tutto. bravo ma lui ah no lui ti mi serve anche dopo perché non è la prima volta che lo puoi evocare no a tira di una tira di una scudata ti prego pro i cristo ragazzi e uno ne mancano altri cento guarda che ti saluta vai così ciao mi riesce a sollevare lo scudo ma lui non ha la corazza di elmo di che giovanotto simpatico non aveva l'elmo di favel però e no brillava a soli cosa non mi sa che ce l'aveva ma sempre che avrei davanti rosso perché c'è un anello chiamato anello dell'occhio rosso che in pratica nemici vanno tutti verso di te questo qua è utile se di fare una side questo con uno e vuoi tenerlo in vita perché sennò i boss vanno tutti contro gli alleati una roba tu anche se anche se gli stai uccidendo hanno la vita in gioco il giocatore che non è ospite c'è un giocatore fisico in quel mondo e non l'ospite sii ah giusto non possiamo usare ok come torno a maggiulla e dove stai andando? che incivile non mi risponde neanche oh mi incazzo no adesso mi incazzo e ci siamo dimenticati una roba l'anello del ripristino no quello quello serve per qua quello qui per la vita si anche nell'uno c'è uno simile per la speed run server tieni vita otteni vita ogni volta che vieni cucinio il mostro molto utile risparmiare estus capo con un ne uso di estus no e ho paura che ce ne siamo dietro di me anello del ripristino bene anello del ripristino no io hai davanti di dosare gli anelli delle piscine costa forza no? c'è tipo madani fatelo un anello si aspetta giriamo all'intorno sto qualche forte che fa vedere che è che fia con la sua corazza è con la di sean oh io non ti spiego passo per passo che fia vabbè non è uno non è un mimi che te lo giuro erba no io volevo essere sicuro erba gazza ok e ciao grazie ci rivedremo infatti che hai visto anche te quel cadavere che caduto ho visto che si è mosso ho visto una scena strana si ma poi è da uno qui i cadaveri sono fermi ma nell'uno mi ricordo che rischiavano di impigliarsi addosso a te cioè non erano fermi devi spostargli si impigliavano addosso a te a volte ah allora è meglio l'uno sgomento si ma va con culo che potete che trapassare ogni cosa così e qua trapassi il muro però non dici che è meglio questo ok ora c'è un cuirà e cazzuti ah le guardie reali bellissime ero per altri ragazzi anche abbastanza realistiche eh sì sto aspettando te che spadoni sono grazie spadoni spadone reale sono forti? sì non sono male oh proteggiano meglio sti qua immagino sì ah abbiamo preso qualcosa sì no perché no proteggono meno si proteggono un po' di più ma in vabbè poi che infetterò il fanculo ah no se non sei infetterò no perché dovrei scrivere mi sa vabbè non sono infetterò tanto se se non uso quelli o uso quelli non sono infetterò lo stesso l'abbiamo ucciso sì sì come stavo dicendo la loro corazza è carina però un po' sfoglia sulle spalle c'era degli spallacci avrei visto meglio guarda che cade è andato aspetta quindi la scala gerarchica sarebbe sulla scala gerarchica come si chiamava sul lato vuoto eh no fante vuoto soldato vuoto e guardia reale e poi ci sono le guardie di Sian che sono quelli da pesanti quelli di prima con lo scudone oh merda oh cazzo arriva Megatron porca puttana devo usare la palestra mi sa eh devo assolutamente usarla se no sei nella te lo butta con la sabbia no la corazza è super ma io non so se è una corazza vuota o una corazza sì ho visto troppo full metal alchemist lo so ah è detto allora tu provi a rompermela tu provi a rompermela la balestra e se hai guarda ti arriva perché puoi romperla? sì oddio allora sono come fate di cartone qua e una è andata eh volevi aiuto aiuto hai fatto lo stronzo non ho fatto vabbè a parte che non è difficilissimo ti sto scherzando è difficile dicivi che non potevo schivare eh 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 mai andare dalla parte dell'arma sì dipende a dire il vero do di hai visto quanto le ho tolto? non l'ho visto dodici e sta qua a togliere no non c'entra vabbè ma cazzo il raggio di starma qua ha più raggio questo qua che è l'equatore oh questa battuta qui la giungo ragazzi spoileriamo quello speciale è il 50 e seconda della medizione di mettere e come si è colpissima eh la medizione di mettere come si chiama in tutte le trasi più epiche che abbiamo detto e sto cominciando a raccogliere ho già cominciato a raccogliere la tenuta ormai ma sto zitto per di stare i criz ragazzi vabbè tanto accelero qua eh senti io non sto qua due ore a combattere il persecutore eh eh no se mi prendeva sto qua ero fottuto ma al 100% vabbè qua la schivata è tanto utile a meno che tu non abbia sto soffrendo per te lo sai io ho il battito cardiaco che è oltre al limite sto scherzando non gli ho tolto una pipa guarda oh è una corazza vuota? no non è una corazza vuota no è solo armatura con l'anima si che ne so flume dell'alchemist insegna troppe cose il prossimo attacco intanto non so neanche se glielo tiro io l'attacco oh ma fammi fai un piacere a me la community crepa ma non so se puoi avere anche la sua armatura ma di che sarebbe figa tanto figa si è vero hai un tumore sul petto? cosa? merda scappa 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 e ormai sto qua ormai è come il pane combatterlo vabbè mi ha preso si ok contenti? non ci distrarre rompi la cazzo oh ci ha messo il tempo per rompere una gemma di studio di diamante ma in un momento si vabbè questo qua non era pericoloso poi mi vuol dire se è vicino però ti distruggerà la guardia di studio no non credo mi ha già preso più di una volta con quello siamo metà vita con il nostro amico in comune biondo avrei dovuto fare finire le darksurs senza senza ne dire ma lui è tanto ah cosa si è tanto non spoiler a nessuno chi è tanto hai detto la metà per 4 lo metto anche però si vabbè perché ho avuto l'accello e basta perché non credo sia ho già fatto più di una volta combatterlo senza muire e anche senza le balestre cos'è stato quello? non l'ho mai fatto? non l'ho mai fatto è la prima volta che lo vedo non so schivarlo è stato ma culo ma culo esatto e mi ha preso vabbè tanto ormai ah già va nello del recupero io pensavo la vita è perduta vieni qua vai se hai il gonnellino sotto ah e in un gameplay ho anche il suo spadone non è così forte come pensiate come pensi e lo scudo non protegge il 100% eh lo so però lo scudo è bellino oh e lo stiamo uccidendo cazzo è comunque mediocre cosa? è comunque medio lo spadone sì lo scudo sì lo scudo è buono guarda mi stava cadendo eh infatti non ti stava avevi visto il gameplay quella volta? no quello che ho fatto io era andato indietro e io mi ho detto si è caduto cazzo vola wow ha fatto una giravolta di quelle mai andare dalla parte dell'arma ogni volta che vedo l'attacco quindi ho il sangue preso perché tanto mi racconta che siamo qua? no minimo minimo 45 minuti e a parte che ci sono tante cose da accelerare quindi oh manca pochissimo non fare cazzate non fare cazzate doppio attacco no mai essere avidi qua si voleva vabbè cazzo e mancava uno sputo ormai abbiamo vinto abbiamo vinto 17.000 anime ma non è caro ci si potenzia non è vinto torna dietro venite a me stronzi cosa fa questo anello? aspetta un secondo io non posso più tornare a maggiungo così aspetta ok un'idea torniamo giù stacca il video ok ok torna maggiungo la via oddio ci arriviamo siamo tornati eccoci qua eh no hai salutato ecco qua quello che ti dicevo ok compro come stavo dicendo tutto scudo ma vedete come è la corazza solo per fare vedere ai nostri fan guardatela non siamo infetterol mi piace però questo qua dobbiamo usarlo e toglieremo io vi odio profondamente toglici la e il metto no dai ma togliamo ok proteggi 100 con lo scudo ma cazzo siamo davvero siamo degli angeli siamo gandalf proprio luminosi gandalf il bianco ok 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 lì c'è un ciccione con la mazza quindi quindi la mia la mia opzione è ah non ti metti lo scudo che per te c'è 100% e va bene ma non possiamo usarlo ti è scritto non puoi usarlo con le tue caratteristiche 3 2 1 scappare scappare fatelo subito non cazzo ci ha anticipato sto stranzo e c'è ah mio dio non ci caga nemmeno di striscio cosa sta facendo quello da non lo so gira fa la maratona sta facendo un nascondino con l'altro sta facendo una maratona da solo l'ho organizzata lui la sta facendo lui guardate le spalle se qualcuno ci sta seguendo vabbè tanto non riescono a rincorricci così tanto mi ricorda vagamente il signore degli anelli questa scenografia qua con le staffle a destra copia e colla eh cioè eh vabbè quello lì quello vincazzoso io dico lasciamo tranquillo secondo che se tu dovessi imboccare un manichino un precipice non dovessi colpo che merda lo so ecco perché adesso proteggi tanto con i draghi usa volo proteggi tanto con i draghi si io l'ho usato tutto il gioco in pratica però la trovi anche quasi all'inizio nel senso no c'è come rapporto difesa peso tu valuta sempre la difesa perché tanto il peso puoi riuscire a contestarlo con il vigore mi sembra si vabbè ma basta no già qua non sono mimiche io so distinguirli eh cos'hanno i mimichi in più scusa le presente le strisce davanti qua sono più luminose sono più chiare ah ok e quello là è un mimiche quelle là di quelle là di legno sono molto più difficili perché non riesco ancora a distinguirli io quindi nel dubbio in grado a caso quelli in legno sono quelli che contano di più hai notte non so se l'avevamo già detto abbiamo sbloccato la età di maggiura senza sederci però solo per poter usare il loro ossidere ritorno e quindi poter ritornare lì perché altrimenti non perché non possiamo usarlo con le caratteristiche che abbiamo è la terza volta che me lo chiedi eh scusa sì sono sto messo che sono altre cose diciamo che tipo a cosa di paranoia anche oh Luca tiè come cazzo stai figlio di puttana figlia di non so come eh bisessuale ma fatele calma anche gli ermo anche forse puoi averlo il suo ermo ok te lo da lui se hai completato la sua sede questa e sarebbe eh sì devi chiamarlo per tre boss differenti puoi tenere anche il suo puoi chiamarlo madonna puoi ottenere anche il suo ermo sì eh scusa il suo vestito sì ti da tutti dal suo sede completo anche allo spadone no tieni miei vestiti tieni miei vestiti ma ti ho appena conosciuto abbiamo un ramo profumato un aspetta ok non abbiamo un ramo profumato del passato che ci serve per andare avanti pazienza lo troverò ma più avanti se no cominciate a fare se no boh lo ruberemo da qualche parte no non colpire non colpire gli esplosivi gli esplosivi stavo scappando per come ho fatto il rischio ok ok non abbiamo subito tantissimi danni tanto ne abbiamo altri 22 abbiamo altri 22 ma si chiama pietra filosofale pietra romiosa pietra filosofale dici gemma vitale e resina dorata bene ti da potere del fulmine all'arma ok dobbiamo attirarlo allora non colpire l'esplosivo mi serviva per evitare di spendere tempo c'è una chiave poi sempre del tempo con ste mumie di merda l'esplosivo è una chiave in fretta poi si fa c'è un po' fatto bene quanta resina dorata hai resina dorata ah riparante si rimbiliante eh cazzo ok ok uno che rotola uno che rotola no questa non è rotola me ne basta uno che rotoli non c'è niente che ah questo qua questo qua è fisso cazzo ok ok non abbiamo ramo profumato quindi che minchia facciamo dove cazzo lo trovavo ramo profumato non mi ricordo più per liberare vedi quella statua lì eh libera quelle là aspetta no contattiamo bene che ce l'abbiamo no non ce l'abbiamo cazzo non so cosa fare e quanta ossa di ritorno una che gioco di me e cioè no non voglio davvero soddisfazione quindi ti sono bloccati ti sono toccato non mi viene te pensi di avere neanche l'osso di ritorno che roba ah no c'è un modo per non andare indietro c'è il segno oscuro che in pratica usi tutte le tue anime per tornare al tutte le anime che hai magari c'è appena morto ne hai una sola la speranza è l'ultimo a morire qualcuno mi aiuti aspetta ah ok non ti riesci con la spada giusto giusto usa lo scudo il legno eeeh fammi pensare dove cavolo l'ho trovato l'ultima volta controllo le wiki esatto non andare così vicino ai burroni che sai come tal non so tu non sai venire che ci vai dentro la volta che ti avvicini io torna indietro destra c'è una scala qua si c'è una scala il limite è come so dire ah va bene pensavo che si potesse ta 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 occhio tu te ne hai mai corto? ma io sono corto ora ma magari non ti conduce alla boss fight boss fight porca vu no pensavo proviamo profuma bastardo buttati qua che di là rischi di cadere vabbè tanto lasciare i cannelli del recupero magari te lo vedrei visto qua non è la sua prospettiva infatti come farò a vedermi che non ti vede la faccia ok allora io ho un'idea ho una vaga idea però dovremmo affrontare il persecutore quello che dovrebbe essere il persecutore quindi abbiamo già fatto basta entrare non ti ammazzo oh merda qua mi ricordo hai l'arco tu le frecce ok che è tirata fuori da balesta schiva di sinistra subito frecce di fuoco ok qua c'è bene to zuppa aspetta ah geniale ciuppa ciuppa ci ritornate indietro i dieci anni con ciuppa lo sai che dicevamo quando quando io neanche l'ho mai detto ma le elementari da 1 2 3 stella 1 2 3 stella 1 2 3 stella 1 2 3 stecca ben tornato ci stavo aspettando vieni qua vieni qua vieni qua non fai lo stronzo vedi che se ne va paura eh to non è che felice lo conosci infatti aspettate cosa c'è qui eh te ho un fetto ma io non sbaglio non c'era prima eh lo so infatti era invisibile ma puoi fare a getta sapere queste robe qua non lo so io avevo trovato un messaggio che ho scritto colpisce avanti ti eravamo profumato finalmente siiii non siamo bloccati infatti avevo visto e c'è scritto colpisce colpisce avanti carina proprio l'avventazione dell'armatura mi ricorda quasi quelle romane a me c'è scritto colpisce avanti che cazzo vuol dire vabbè colpisce un invisibile sacrileggio siiii infatti c'è non non so perchè devo fare queste robe quella di Dark Souls c'è metà delle robe che mi fanno incassare nessuno perchè fanno queste robe uno come fa a non arrivarci senza le wiki o senza air nel race e nel dark ma hanno attaccato a canoni merti i danni scappa adesso un cazzo perché passi e non si ammazzano tra di loro morto uno l'altro seguire prova a prendere B e basta B si perchè dovremmo andare indietro così quindi B e basta cerchio la cerchio Ario non siamo su Xbox ecco vai indietro così anche meglio che forse consuma meno energia moonwalker vabbè basta così il disagio come ha messo l'equipaggiamento l'equipaggiamento è ora vediamo cosa fa la statua si è anche compenetrata si è compenetrata con me ora si alza e mi attacca igno ignobile si era pericoloso no merda qua ne arrivano tanti mi sembra e arrivederci hanno le porte loro no sono stupidi ora aspetta ora dovrebbero tornare indietro vabbè al massimo ne trovo uno oh fuck mi risparta uno contro quanti sono hanno morti e fuggi mi ricorda Kingsfield Kingsfield anche a me sta propria tipo mordi e fuggi mordi e fuggi mordi e fuggi no esplosivi no non lo fanno esplode hanno bisogno delle mazze ma non so una volta le vengono no loro si lo fanno esplode invece avessimo filmato no 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 in realtà una volta uno mi ha eh sì un ahia mi ero distratto non ti distratti vabbè questi colpetti come ho fatto a schivarlo non lo so no avete finito avete avete rotto il cano no guarda che ci si vanno una combo giù che ti ammazzano su colpa ok ora sono in due e non più in tre o mi ricordo il sentinello della rovina non so perché è un attimo che voglio parlare ma spero che finisce no merda ecco vedi attento attento ricaricati sai che devi testare giù quello scudo per caricarti eh lo so no il cartier è vita ha parato vabbè non è servito un ca... ma le spade non sono fatte per parare no mi riducono di poco infatti oh il telefono fatto vabbè frega niente ci tagliamo che ne so ok almeno siamo riusciti a chiudere la porta a casa di Chris ok come stanno dicendo gli ragazzi mi sono fatto una piccola colpura sulle corazze come funzionano tu con una spada del genere poter rompere una corazza anche se non è grande devi colpire tantissimo nello stesso punto cioè stesso punto deve andare avanti tipo 5 minuti buoni no non così ma devi colpire nello stesso punto tante volte sennò col cazzo che devono rompere le corazze vabbè ma qua le corazze sono fatte di carta pesta vediamo degli zotticoni io seguo degli zotticoni del kentaki saranno perchè uno dei kentaki è uno stato di zotticoni che testano le corazze testano le corazze antiche e sono anche simpatici la però vedi questi qua che distruggono corazze antiche lì allora questa parte qua non è fondamentale però non c'è questi youtuber che si sacrificano perchè le comprano anche le corazze costano anche 1000 euro ho visto e loro devono distruggerle e vabbè questa aveva anima di cavaliere valoroso mi serviva qua posso trollarli ce ne sono due che mi aspettavano di là e io li trollo da dietro con la sabbia li li butto eh volevate come si sa vedi il rapola così vabbè ma se sfrutti la loro intelligenza visto? bastava un colpo deciso eh colonna cercava l'affondo sbaglio va bene non mi interessa dai nooo non ci sono dietro allora i miei mi piacciono veramente molto ragazzi se qualcuno di voi è esperto di medioevo mi può dire se quegli la sono che calcoli whitosh ahhhh ahhh bastard mi vuole prender dietro sto qua sCC se qualcuno di voi è esperto di medioevo o se ne interesa oppure semplicemente sa mi saprebbe dire se queste qui sono le corazze da balestriere l'ermore della blu del medioevo uno d'altro quando c'ero le basse si è questo? tre basta cosus colpo deciso ed è andato è un colpo forte lo so allora io non so se usare da ora la polveria reparante o no e c'è il boss è già nostro amico come si non mi ricordo più come si chiama avanti felice la coraggiosa ma beh sì non so aspetta belclere la pellegrina dopo adesso arrivano tranquillo lo so è la grande lancia mentre l'altro è uno stregona in pratica cura mi ti prego allora io la uso non lo so e non hanno mi ha recuperato totalmente sono troppo facile nobile si dura vero si dura ciao come va ahio ormai ah no cazzo sono più vita vai vai io ti proteggo ah si un par di coglioni che ti proteggo proteggimi tu invece non ho neanche la lancia la stregona fa tanti danni cazzo si fa danni è vero cosa fa è piccolo no ho sbagliato io no tu guarda io non capisco perché tutti questi mostri qui vengono attaccati perché non vuole fare la pace come su underpin non voglio combatterti aia non voglio combatterti spiaccigata felice coraggio felice le sta a parte che all'armatura apposta no la sta buttando più giù proteggila ti metti a dire gli altri no devono proteggere me loro non io devo proteggere loro ah no non è morta non è morta non è morta è stata drammatica la scena vendicati sopra ti ho vendicato andate voi giù geniale e o cazzo come si chiama bel claire la pellegrina no guarda che sta sta morendo felice sta morendo cazzo vai ad aiutarla dai col cazzo stai su stai su la musica fiera dalla carica la musica dalla carica dai non morire cazzo quella tacco li arrava il culo lo so indovina un po' che succede se evitagli basta che la maga allora la alessia e adesso è quella lì che sto puntando io la morte di un guerriero addio ok ok io devo io devo tenerle io devo tenerla di strada che succede mi ha fatto un giretto giro giro tondo e l'altra ai qua ma io non lo vedevo più nella schermata ok io devo tenerle io devo tenere distratte scappa non avevo non avevo visto non avevo visto scusa sono i due si vede ma quell'altra era lontana cazzo avevo detto ma si è lontana cazzo vai che faccia no porca avevo pochissima energia eh vabbè ormai è solo inutile eh vabbè mi prendono così ha più la pa la paura negli occhi madonna mia dai che stai andando bene si vede ma prendi neone basta non andare entrambi e io ti ho detto ma potete la tempra no non serve cito i mister l che cos'è la tempra? è l'energia mi ha pensato sia l'energia ok ok e ora alessia alessia hai messa male malissimo ecco vedi quanto ne sta prendendo chi scusa? alessia non so quale cazzo sia perchè sono uguali come fa sapere come si chiama alessia? e c'è scritto lì sentinella della rovina alessia ricce e yaim quella la yaim e quella si attaccando la maga proteggi la maga fanculo guarda che sennò ti aiuta ti aiuta a proteggere l'altra ah beh la sta colpendo lo stesso guarda che io la tiro st sta colpendo e basta no se la fa visto? oh eh vuoi ad aiutarla? do le spalle a sta qua che mincola vero? grazie grazie coglione vai by clay aiutai j2 che tifo per by clay hai le palle di sfilarmi da sola? eh? dai no lascia la guardia alzata qua su Dark Souls come viene un battergotto dai no fare lo stronzo ma sto parando cosa cazzo vuoi? guarda che se il gioco vuole puoi cadere un burrone che è qua sai e qua non c'è un burrone passo un anno un burrone sotto ai piedi hai usato a prendere in giro Dark Souls? è andato saluta lei saluta per creire aspetta che ti saluto hai combattuto bene ora puoi andare che cazzo colpisci? attenta è uno dietro di te no 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 attenta è morto eeeh morto ah guarda in questa stanza ci sono tipo quattro passaggi uno dov'è? qua due aspetta tre quattro guarda ho scoperto delle robe impensabili tipo ho scoperto dove stava la figlia la figlia del caos la la regina del caos che madonna mi puzzava infatti quel posto lì non mi fidavo ti senti meglio essere sicuri che morti ah bella questa scuro o tondo come sarebbe? è un po' come dire non so dirti se è meglio o peso di sto qua è questo mmm si è un po' peggio pesa di più fa meno non mi dispiace si ma non ne manca uno però è qua sopra ah ok no aspetta due forse eh si ho sbagliato io non è un mimic disse prima di essere mangiato da un mimic sono stato mangiato? no e allora fottiti eh mica che volevo dire cosa hai detto io silenzio si in pratica sei più silenzioso nel senso è un incantesimo che i nemici ti notano più difficilmente osso del ritorno 3 qua l'ho già fatto una volta posso farlo di nuovo però oh nico 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 aspetta qua ce ne sono altri però qua è pericoloso attenzione attenti attenti e te eh qua c'è uno che esplode fa tanti danni quello che si si ok ok intero non è un mimic e cosa c'è? non è che è uscire a distruggere una cassa in un colpo solo due colpi ah tipo se la spada è più forte del gioco? no ah ok ah non so paeta dove c'è? uno che esplodeva anima di soldato ignoto si sto tutto in sto gioco in pratica ma hai vista di sta parte qua? è un palo che noi non usiamo vado di giro intorno aspetta allora e potrei andare a potenziarmi 30 mila anima e vai subito vabbè ci vediamo dopo perché saluta saluta stesso punto stessa ora potenziale bentornati c'è un buco nel muro più del solito l'abbiamo fatto perché quando ci si potenza se ritorna lì si generano i mostri qua no capito qua c'è il il è un tizio che agita il martello ha fredda si si va bene va bene qua dobbiamo dobbiamo da lì tizio nel morto subito invece come mi hai chiamato ah e allora acquista ripara ripara esattamente non ho mai un cazzo da riparare qua io eh ma se faccio rinforzo no non serve infondi no acquista acquistiamo qualcosa uchi gattana ha una katana con una con una con la spada lunghi lunghissima ma chilometri si arco lungo vabbè frega niente qua c'è di ferro poi c'è pesante eh eh sono tipo gli ombrelloni da spiaggia sono tipo gli ombrelloni da spiaggia si gigante ma perché il telefono suona frammento di titanite bua non mi sento in mutuo io questo gruppo qua dardo pesante in mutuo madonna silenzio silenzio ma mai sei solo che continua ad arrivare però la la lucetta del cazzo no ok hai messo ci mi sono la cuffia almeno si si ci lascio ok andiamo avanti dobbiamo riaffrontare quei tizi dove arrivo? però stavolta colpi di accetta cosa devi affrontare? i due tizi qua e non fare deficiente eh pensavo di prenderli entrambi forse ho notato ragazzi che la differenza per fare accetta 2 e l'1 ecco che un'arma è tanto più efficace contro un tipo di unità eh come avevamo anche visto in un episodio che mi ha detto mi sembra eh già ti puoi male si mentre nell'1 era se c'era era un po' con quel cane questa differenza ma almeno si ti diceva guarda la scimitarra è utile contro la gente non corazzata ma deboli contro la gente non corazzata in ogni caso comunque sia se avevi una spada che faceva 300 di danno perchè avevi il culo e te ne doppavo un nemico forte aspettate guardate guardate come vanno in fila con un kebab ecco quella davanti è geniale hai vinto tutto così guarda guarda ma poi state riparati per il maggiore sicurezza è ok però state riparati eh non vuol dire che muoiano con un colpo ah non è morto qualcuno che crepi tipo questa e gli ragini a giro ok ora meno intrappolato avanti quello è morto quello è morto e anche questo vediamo un po' se giro con l'elmo il fumo che piace a me si troppano quando stanno passando ah sempre buono allora l'arancia è piuttosto debole ormai pepe come resistenza quindi con le armi si rompono anche molto più facilmente rispetto all'uno eh questo è un brutto peccato incredibilmente è più facilmente rispetto all'uno ok dico andiamo di nuovo di qua che si ci è piaciuto quello che è successo tipo no non è che ti attacca se non lo faccio non vai ti anche lui esplode si sono quelli da talebani ora credo che troveremo ancora i soliti due che ci aspettavano dall'altra parte e invece noi li abbiamo inculati per bene vero? che ma attaccate uniformemente era l'occasione giusta per bene gli entrambi e due fatto adesso possiamo ancora evocarla eeeh ci può ah no no non conta perchè? ah già eh già perchè quando tu passi stavo pensando quanti video su youtube ci sono i genti che ha completato Dark Souls in un corpo solo eeeh uno e basta no senza falò non lo so senza falò credo uno solo e basta noi si non è vero e poi poi boh occhio che qua c'è un talebano che esplode oh un po' bisogna registrare dopo tante ore ah ah andiamo avanti ma no ti hai il sacchetto di sabbia non ti fanno avanti dai facciamo sacchetti di sabbia moriremo tutti nooo hai già preso la spada quindi so che qua ci incontreremo resistenza armata e ce l'ho sempre la spada in mano aspetta madonna mia se cadi ora a casa di un bug chiave della bastiglia perduta oh mio dio hai preso la mia roba mettendo giù ahio ma vabbè ma si è fermata la metà strada io non me lo aspettavo pensavo di riuscire a colpirlo col secondo colpo a parte che abbiamo anche l'anello del ripristino quindi siamo scialli quindi basta che andiamo avanti si possono anche potenziare gli anelli no eh volevi eh voi lo diciamo assieme eh eh volevi trovo facile ok 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 la zona più veloce la zona più veloce sto pensando ma secondo i frammenti locale ha parlato tutto qua per essere questa città bastiglia perduta non ti dice niente un gargoyle si gargoyle passano spesso intorno quello quello si anche nel luna ci sono forse come boss come boss anche qui ma sai quanti sono qua sei ah ma si vede che forse sono più scarsi dato perchè non prendi quel caos ma fanno bestemmi sai quanto fanno bestemmiare in un livello mai visto nell'umanità la possibilità per di staccargli a coda ottenere un'arma no ha il forcone del gregoi lo tieni con le anime dei boss e senti io non ho voglia di andar giù eh quindi facciamo sembra meglio eh ti hai droppato le robe importanti vabbè oh vai giù credo che se n'è un altro forse e poi giustamente i cani sono fatti male come nell'uno cioè non si è mai uno due si è vero io non sembra che ti fa colpiscono anima di soldato ignoto perchè un cane troppa l'anima di soldato ignoto forse perchè ha mangiato un soldato ignoto esatto qua non colpitelo forse si va bene ok ah 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 perché mi fate questo guarda chi sale papà si ma non se muori però se mi muori da qui tre colpi un colpo o tre morti è un record vabbè oh è qualcosa di soprabito da riandante cappuccio fa schifo è chiaro chiaro come il sole che fa schifo poi c'è un metto fetta fetteroll fettero gambari da spadaccino questo non lo fateci di più e fa un culo mi tengo a questo io e stiamo in fettero con tutti in pratica anche quello con cappuccio si è vero il gioco fatto bisogna bene ammio di ammio di ammio di ammio di ammio di ammio che fanno male lo so lo so ti amassi in un colpo a volte giusto? vabbè ma il new game plus perchè è dopato il new game plus qua invece qua ti colpi ti ammazzi non così come so dipende non so neanche io non l'ho testato anch'io eh bisogna c'è un altro dietro di te non è vero ah no grazie dio era un anima non farmi cagare addosso ma guarda dax esplodono qua c'è un barri di esplosivi lo sai sai che viene fuori? mi fa un disastro peggio peggio e cominciare il gioco dopo tutto sto tempo aaaaaaah c'è un destino ci sono destini peggiori della morte e dai di cominciare l'altro d'acqua aspetta eh no su ci sono dei balestieri ma io non li scatti sti qua osservate magia magia pip 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 ho buttato giù una torretta colpi di scudo manco fosse eeeh quelli diavel venite su venite su se avete le palle era il ligno marce occhio che c'è un barri di esplosivi subito sullo scudo ritirata strategica occhio ma com'è fatto a prendermi da così lontano mi attaccano senza partire io non posso aspettarmi questo sai qual'è il bello? giochiamo a darmi pari stronzo che stronzo? ah! giochiamo a pari ahio ok ok non fa per me il ruolo di erciere ma quanto però ci spara? ma è una balestra o un è un mitra? schietto no dai sono anche pesimi e allora se stai sotto magari ti trovi addosso adesso non mi trolla più addosso che cazzo? scappa scappa dio mio quanto sei il rischio vita vita madonna se ti colpiva morivi lo so lo so figlio di tu figlio che bastardo com'è che hai spawnato qui? è scomparso ora no 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 via 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 col cazzo che torno lì io si ok che è sparito ma ma la paura si fa sentire si ma ma tu sai cosa vuol dire trovarsi un persecutore dietro? specialmente quando devi cercare di non farti uccidere aspetta ok ok cos'è? ti schiuesca? serve o un cazzo? si vabbè serve ma serve ma non serve si ecco serve ma non serve ecco qua proprio la definizione giusta non serve ma serve serve ma non serve 2 violenza sugli animali e vabbè violenza sugli animali e vabbè violenza sugli animali guarda come no no è morto è morto è morto ma ma perché i cadaveri fatti a culo così non li sopporto meno uno ci sarebbe stato anche lui l'ha incastrato si io pensavo a questo ok allora qua di sopra c'è un fallo petta mente locale no non c'è un cazzo in pratica si si non c'è niente non c'è niente ok vabbè c'è un fallo ma noi non servono i fallo c'è una cimitaria di la però via cimitaria ancora forte che hai usato me? no no una cimitaria una cimitaria però con le contro cose vabbè io volevo io stavo per dire speedrun ma ovviamente non sarà uno speedrun sarà una roba tipo di quattro ore minimo eh già minimo uoah cazzo che non cadere eh che che sfiga no non è morto non è morto via 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 che c'è uno che ci punta e ci sono gli esplosivi saremo al 50% no o devo ancora trovare un fallo primordiale e non è che manca non è che manchi tantissimo ma ma eh ci sono destini peggiori della morte continuo a ripeterlo non so perchè dove l'hai sentita questa frase? mortal kombat no ah la alla fine si i crits porterà una campagna su mortal kombat mettilo la serie che sto portando su paranoia cosa ho visto? ah no eh no non è niente ok cosa fa? eh volevi? cazzo che trollata magari non avessi cura il new game plus il new game plus io si sono cascato ah che bastard sai qual'è il bello? che c'era un c'era un fallo lì accanto a me quindi è come se non lo avessi fatto giù ci sono due variaghi ah i variaghi sono cazzuti sarò vecchini i variaghi in pratica no non andremo alla skyrim quindi c'è scritto noi variaghi in teoria sono quelli la che vanno per le navi sono tipo pirati c'è scritto arco marino la descrizione diceva arco con lunga agitata per colpire i mosti marini e questo dice tutto eh già sono tipo pirati è così simile si come hai fatto attacciato con lo spiro? ha fatto così attacco in spiro forse per me è utile per destabilizzare i nemici tihood ti uccido colpi di scudo per l'more de di nodes va beh ave ave' uno ed è un andato l'altro è la si l'elmo di skyrim 1 2 3 è morto che panora di morire armatura dei variaghi eh protezione 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 fetta non possiamo ordinarlo in grado protezione ordina difesa e no è la terza aspettatevi svela un trucco no e no era dall'altra parte sbagliato aspetta adesso ti spiego c'era qualcosa sul tetto si infatti eh devo andare sul tetto infatti dopo ti spiego dopo vedi che ho pulso le stagniere ma volevo l'elmo di skyrim dai dai metta riserva giuuu ecco qua adesso aspettiamo eh ma noi siamo ACAB quindi esatto siamo sopra ti stai buttando il naso sulla parete no piacerebbe sto guardando la spada peggio ancora com'è che si consumano così in fretta eh cimiterra polvere riparante bene siamo a posto allora siamo a posto perché dobbiamo andare su io sono venuto qua solo per la cimiteria eh che sono cazzutti le cimiterie peccato che hanno una resistenza pari a una paeta una resistenza pari al rame tu non puoi non avete capito il rame è un conduttore quindi non ha resistenza ha una minima poca resistenza punto e base non so che il rame non è molto resistente non esistono super resistenze c'è rame, bronzo sarà poco di più del rame e ferro e ferro e poi l'acciaio no l'oro è primo di tutti l'oro è più resistente no no l'oro è più conduttore di tutti ah no io sto parlando della resistenza l'oro non fate mai corazzi in oro perché come ci insegna minecraft proteggono poco e non è molto resistente e pensano tantissimo l'oro pensa tanto tirato ti pensa tantissimo l'oro e la sopravvimenta non serve un cazzo perché in un nuovo di ristorante di lusso là dove ti servono basta il burro di lusso quanto quanto quanto? 22 euro basta la manducchera in una commettiva con la scuola là madonna cara dove ci hanno portato sono anche buona ma ma le fa anche mia nonna se sopra quel burro la ricetta si vede vabbè a parte che a parte che lui era tipo in sopravvivenza da quanto mangiava poco ah si no perché ho pagato per l'acqua era una gita a roma ragazzi io sono pagato però io non l'ho presa molto bene la gita cioè per me l'ho presa più come una sopravvivenza come una gita ah io no non ci voglio distrarvi ma perché ah poco stanlockismo come il cazzo si chiama stalini stalini si mi ricordo eravamo al bar lo abbiamo pagato per dell'acqua letteralmente ho pagato e io quindi loro io forse passami dell'acqua no non sarebbero loro io passatemi dell'acqua no se stavano finendo loro eravamo finito l'ultimo socio io quando stavano finito ho detto ho tirato un puglio sul tavolo io ho pagato per quell'acqua ero mestruato perché non riuscivo neanche a dormire perché non pievano le palle io ho pagato per quell'acqua l'ha finita allora ho preso fuori la mia bottiglietta che dentro avevo cibo cioè cibo c'avevo un po' di tutto dentro un po' di lettere a me oh oh iscrivetevi ahahah quindi ho tirato fuori la mia mi sono messo a bere questo io non ho preso molto bene la gita avevo perso tre chili il cibo buono non era un cazzo perché ci sono panini con dentro tre fette tre fette ma non tipo panini picco panini quegli da grossi tipo campo di congita mettevano una fetta di un pezzo di pane grosso ecco totti il pane e mangia il pane aspetta cosa c'è qui questo qui manichino no è una creatura dell'oscurità non so come definirla che brutto che fa paura due è forte anche cazzo tutto vero? ma non tanto veri però come me praise the summer e non mi droppano mai un cazzo si sarà un zio ok non c'è niente questo qua il ferro si rompono anche queste? no non si rompono vabbè a meno che non arrivi qui di pesta ma neanche quello perché il gioco ha detto non si possono rompere e proprio come stavo dicendo si tipo panini grossi ho detto tre fette e finissi l'ama doppia non bastavano un cazzo di terra forte l'ama doppia e vabbè ma quella la di ferro quella la di ferro rosso si ma queste qui io l'ho provata su sulla pelle l'ho provata come usarla fa cagare quasi più utile quanto le corazze aspetta sembra meglio controllare che morti si è il motto del canale meglio sicuri che morti sicuri che? meglio sicuri che morti ah meglio sicuri che morti ti devi mettere lì dentro lo so la prima volta la prima volta avevo detto quando c'ero entrato ho detto coglione ora mi ammazzano poi mi vedo si sblocca ah dovevo andare qua no veramente mi sono cagato addosso ero tipo testa di cazzo ora sono morto ci sono delle spine lì dentro che non l'ho visto che ne so io spine? no dentro la giostra lì e saremmo morti non credi? magari tipo un giro che erano poco oh oh questa zona è cattiva ah merda usa l'alco uno due tentiamo di contà si ha lodato il sole pres de sa ah aspetta no 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 deve stare in movimento stare in movimento repa movimento 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 che ne so è così non ci colpiscono se stiamo in movimento ok 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 sono finiti sono finiti di sopra ah di sopra c'è una sorpresina vedi qua sembrano tanti ma sono innocui ah non ti attacchi sono innocui sai perché? non so perché credo che senti qualcosa di questo tipo adesso non possiamo dislocarlo aveva bisogno di un bastone antico? cos'era? no è il ramo profumato del pppb e gli vorrei sapere cosa figge del ramo profumato cosa dice? il ramo che ricorda vecchi il ramo che evoca i vecchi ricordi poi ti dice anche tipo avvertenze mediche qualcosa tipo avvertenze mediche l'esalazione prolungata del suo profumo può causare vomito e nausea su serio ti dice questo? ah e qua è una parte stronza vedi c'è la mumia ma sopra c'è anche un balde estriere ta ta taaaan lo vedi vedi la freccia che scocca vuoi fare squadre di cosi si esatto quindi io porto la mummia deficiente qua da me davanti no no nooo si oh oh bravo eh volavi a volare questa è stupida vieni si ok ma vieni qua ah gli stici attacchi di asgole mi ricorda asgole si mi ha tirato un colpo che mi ha fatto malissimo oh che uai guarda che non morire così mi ha mancato ma com'è che ricarichi la vita oi ricarichi ahio ma com'è che mi prende rischi ricarichi la vita non si arrende 29 di gemme vitali però sono sempre messi meglio il meglio non è indietro per la guardia alzata ma vieni pure a prendere non li tolgo un cazzo con le frecce mi piace il palestiere che si è posto poi vabbè ma eh no è una portata infinita sta roba qua ti volevi senti dobbiamo dobbiamo tentare tutto e per tutto ah perché in guardia forse guarda qua c'è un esplosivo quindi dico e devo farlo in tutta sicurezza quindi qua però gli attacchi aiuto quello vabbè oh rischiamo tutto e per tutto che bifigata cosa sta come è stato pesante si doppio colpo pesante guarda venga a prendere il tuo culo puttana guarda che non riesci a colpirti ora guarda che non riesci a colpirti ora guarda che non riesci a colpirti ora eh boss? quasi pinnacolo della peccatrice siamo quasi al primo foro primordiale in teoria è qua quattro dopo quei quattro possiamo andarcene dopo quei quattro possiamo andarcene tranquilli dove è andato? cazzo cazzo gregoyle merda to beccatemi qua eh e guarda lo strozzo dove è andato guarda dietro di me proprio non se la sentiva di venire da me eh stronzetto muore balestra pesante bene balestra pesante bene occhio a non buttarti grande anima dinomoto per esempio io so tutto di sto gioco tranne come finirlo senza muire dobbiamo scoprirlo ora perciò allora ora c'è un piccolo punto difficile perché c'è un mal esterno che è in culo cioè è sul bordo però ce ne arriva uno anche dietro è andato eccolo qua non combattere qui se vuoi ma guarda tu lui 2 3 2 non è morto ora si aspetta bello che qua se ti giri se ti giri va più avanti va avanti se ti giri io una volta ero sul bordo mi son girato son caduto eh vero nell'uno se tu mettevi anche mezzo piede fuori l'hai fottuto ti risucchia ecco la scevita non è utile quanto le polacce ma sta loca in pratica non so cosa non voglio sperare di cosa vuoi ma non hai detto scusa sta loca in pratica gli sordi 6 per mezzo secondo è andato avevi detto prima che dei simi carri non si hanno molto si vedi eh vedi poi ti spiego vedi questo danno qua 20 è danno equilibrio quello la vuol dire stun lock ora voglio evocare ora voglio evocare voglio evocare lucati alla versa si qual'è il boss peccatrice perduta è facile se l'ho fatta da solo al buio qualcuno diceva attenti ragazzi dovete aspetta aspetta un secondo no 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 aspetta aspetta lo faccio meglio lo faccio meglio dopo lo faccio meglio si c'era un morto si lo so ma e se lo faccio così rischio di cadere giù nel fosso quindi lo faccio giù nel ritorno dopo ti spiego aspetta se lo facevo ora mentre salivo giù c'era il buco ah giusto e quindi rischiavo si l'ho fatto sempre fatto ma rischiavo tanto e non è il momento giusto per morire qua infatti non ti avvicinare così tanto al bordo e non ti avvicinare devo andare giù 3 2 aspetta bene non sguire danni vai ora bene danni non sguire coltello lacerante oh Luca no aspetta vuol essere una parte stronza allora Luca te lo mando avanti io faccio supporto perchè c'è una specie di sentinela flessibile ah ok però c'è solo quella quindi quello so stai attento non morire ti prego ok allora di lato non c'è Luca te l va avanti va avanti va avanti ti prego cazzo tu l'hai vista si l'ho vista è forte tipo no è fortissima si è stronza è un bosco lì però quasi per solo che magari ha meno vita è giusto tonto 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 e Luca te l dovresti andarci tessa va bene va bene va bene Luca te l vacci te ti ti prego la vita va bene ma e poi lo subisco anch'io ok 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 sto arrivando sto arrivando torto torto quasi si vabbè no vabbè allora non rischiare mai certifica Luca te lì cazzo se tolgo poco è tutto sbagliato in questo gioco sei della parte di cimitare oh guarda che Luca te il toglie eh io lo tiro io lo tiro ma l'incantesimo non c'era questo il grotto c'è un incantesimo tipo giuramento sacro puoi anche tenere la corazza di tasto qua si ma della sentinella o di Luca te la sentinella quello non lo so non sono sicuro non è una privata sai che sto attacco non lo sapevo io ho preso quasi metà vita ormai Luca arrivo 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 no eccoli eccoli dio caro scappa subito non morire così eh anche uno è solo un sacrificio a Luca te l ti chiedi la vita subito Luca te lì prego e non morire è andato hai combattuto bene ammazza con il mostro il mostro piccolo si lo so ma si impalla ah no ok la peccatice perduta tutta nostra ok ok allora il mostro ha poca vita ma se aiutavi pete pete come veniva come le altre qua no come veniva solo Luca te lì potevi evocare solo Luca te lì no aspetta c'è un altro che possiamo evocare dopo ah ok e come si chiama quello la con lo scudo quelli la quei doppio scudi ah ho rischiato ma ha detto poca vita ma se tanto muore quindi si lo so lo so lo so tranquilli grande anima vabbè qualcosa da salto perché uno speed deve essere uno speed rancato no si non saltare il tutto lascia così che noi non siamo c'era un'altra anima a sinistra va bene fria niente tanto non aveva niente giusto qualcosa ma non mi ricordo cosa vedete che eh ok ok qui c'è un c'è un soldato di cosa c'è un soldato di hide non ci attacca se non attacchiamo noi lui è buono perché noi ne abbiamo ancora incontrati i soldati di hide eh perché con la parte l'opzionale quindi non voglio rischiare ok giusto da quella parte si andava per il ponti oh no stavo pensando ho saltato cosa non ho visto io sta parte qui il gameplay che ho visto non posso aiutare allora lo so lo so lo so tanto è buono vedi che si può uscire lui è il mercenario andiamo 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 il vendronato ciao lui fa vedere guarda l'elmo non è di havel no non è di havel ah è vero non è di havel eh che ne so grazie no dal sole tutti assieme no il sole non stava lodandolo solo no era un uro di guerra ha messo messo non ha gridato diciamolo del sole assieme no no del sole dopo dobbiamo urlarla quando batteremo la peccatrice perduta ah carina qua il level design oooh si ho visto l'ho visto lì in fondo no ma io stavo pensando non lo tagliare casomai dividilo in parti ok no qua ci serve la fiamma della farfalla e guarda che non è mica cioè è quella personalità più caldo cioè non siamo quelli la che fanno le speedrun siamo di cattro i youtuber che le hanno messo esatto già è un è in parte 10% speedrun guarda deve essere veloce ma non speedrun ok ok levati grazie sono l'unico che fa stavo dicendo da due ore ragazzi minimo chiave della bastiglia ok accendete le cose che in pratica e perché sennò sennò state al buio contro la peccatrice c'è levati ti prego ma allora ci sei o ci fai vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua oh la lancia casomai c'è spada c'è tante ok tanto tanto va tutto sul web noi ci siamo salvi non so se l'ho mai vista qua fammi vedere il filmato eh qui siamo nelle parti bastante amanti non tutti che hanno disegno con le spade con le mani legate hai detto che è scarso si vabbè ma io l'ho battuta al buio eh si l'avevo letto infatti l'avevo letto in in inglese quando l'ho vista facevo lost sinner si qualcosissimo lo stai mancando lo so è una lancia non è un non è un fucile dai che ha quasi ucciso lui e dicevi? io la lancia la rompo per così dopo non mi tocca c'è la uso da usato vai lui ah grazie è la matura di come è Hevel uno dice Hevel altro dice Hevel io dicevo Hevel sto gioco a mille pronunce e dai c'è chi lo chiama gioco che va incazzare K Hevel ti proteggo io non mori e ti prego ah no io volevo io volevo ti starlo ma lancia il rischio però lo sai e poi se ti lascia guarda che se ne va su di lui prendi una d'arma voglio romperla devo deve essere usata ma no adesso non vedi una d'arma è che piaciata ho fatto ho fatto ora questa qua dura questa qua dura perché lo so cazzo c'è nessuno è andato su di me lui è lui è lui lui nooo non posso dire dicevi che è facile è facile è facile cazzo c'è fatto danno c'è ne si metto energia eh si riprova la tattica tecnica cazzo e si sposta sempre non riesco non riesco a stare stabile non è che sono non è come gli altri boss che sono delle montagne ferme no sto qua salta salta questo qua o sta qua non ho ben identificato la sessualità di sto personaggio per me è un uomo a meno che non sia un class eh ok senti già c'è il lucatiel che è senso punto interrogativo cazzo è vero merda lucatiel chi è un maschio una fece allora io dice eh allora ha la voce da donna poi però lucatiel lucatiel poi il nome ha la voce da donna ah guarda i grugniti che fa quando colpisce viene colpito no quando parla parla anche lucatiel ario ma sei stupido e che ha parlato e soler parla eh soler parla quando li quando li quando gli parli si ma lucatiel e allora ma lucatiel si ecco su qui che è appena morto no quello la è luet ah ma non quello lì con l'armatura che è lucatiel ah la quello la con il cappello da robin hood ah io stavo pensando che anche chi è questo lui ha appena morto luet il mercenario ah luet non lo trovi mai è un il ah non poi diceva no è una donna lei è una donna si capisca la voce allora cosa però è sulla traduzione dicono diceva sono stanco però sulla wiki dicono attenti a no no vabbè è maschio si vede però come le femmine si vede ma le tendenze maschili no però se guardi bene in faccia sembra un maschio ma qualcuno diceva una maschera è una maschera infatti si abbia padre che non si può notare perché quei personaggi non muovono la bocca quando parlano è questo però stiamo andando bene nonostante tutto eh non abbiamo preso neanche un colpo non ti distrae troppo si non sto facendo il cazzone beh attenti la peccatrice perduta vi ucciderà tre secondi è una cazzo se mi è possibile analizzare come si chiama lue giusto si dal punto di vista psicologico lei indossa la maschera e parlo del maschile che vuole sembrare un 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 maschio anche se è una femmina così si io mi sento un idiomodo bella questa schivata e dovevo farla prima o poi bella anche questa stavo ho fatto tutto il gioco in fat roll in pratica quando? è la prima volta che ci ha giocato non sapevo cosa voleva dire fat roll non sapevo ma scusa ma si io stavo sotto al 100% e poi ci sei fat roll meglio perché? perché sei fat sei ciccione se tu vuoi dirmi che la coraggio da catarina non ti fa rotolare bene non ti fa schivare bene quelle rotolate quella da catarina ci va bene ma vai porca puttorma da chi ti ha creato a meno che non sia stato il padre si oh creppa a meno che non sia stato il padre che so lascia pelle alchemist quanto cazzo fai stifo quanto cazzo fai stifo non guardarlo i cartoni animati dillo a chi ci segue e guarda gli anime ahahah come se ormai come se ormai Undertale non fosse diventato meta anime ah si ormai è diventato animazione non è edito quelle animazioni è sottotitolo eravamo perfumato e sono anche quelle lì che portano molte gente sul nostro canale perchè hai dovuto accendere un falò primordiale è acceso dobbiamo accenderlo ah se no non puoi andare avanti nooo ma tornami sto giocando ti tiro pugni torna a fuoco non sono nerd di Dark Souls i2 uno si ma lì va bene allora io dico usiamo il trick qua questo qua mi piace non è vero che ti trasporta questo ferò no ti prego dimmi di no caricati o caricati lávi 54.000 l'equipaggiamento Lo so Sto giocando sono io il master, Quindi non finisco L'equipaggiamento migliore Si dai Hai rotto il pazzo Ho detto il pazzo Così non è volgare Vediamo un po' se riesci a metterci nel metto Vediamo un po' Nel metto che... Non siamo infetti Non abbiamo altri metti lo sai Però senza elmo è figo Ah è senza una infetti Si ripara Ah giusto la lancia Dobbiamo Sistemarla Spaccati ti prego Oh Se non è spaccata non te la ripara Sto figlio di... Ah io faccio solo lavori completi Non mi porti roba già rotto del tutto Altrimenti io non le riparo Io lavoro sodo ma non riparo Se faccio un lavoro lo devo fare Completamente fatto bene Fallo del tutto Quindi se vuoi che io te la riparo Potrebbe essere rotto del tutto Non faccio mezzo ai lavori Quindi vai fuori rompila spaccandola sul muro Per me infatti la parete è rotta Perchè le altre gente sono di spaccare le lanchi Me lo ripari? Non è rotto? No ma se no ma qua allora non la riparo Ok ok allora Questa grossa però è un po' strana Quale dici sulla palestra grossa? Che è una palestra grossa? È una palestra che utilizza ingenti danni Equipaggiare l'equipaggio di darde Per utilizzarla con chiaramente gli archi Per utilizzare una palestra bastano sulla mano E equipaggiare fino a tutti i dardi per avere diverse possibilità Allora c'è la palestra Fa più danni oppure meno danni degli archi? La palestra fa più danni Però ci mette più tempo a ricaricarsi Da un colpo all'altro ci vuole più tempo Allora dico lancia perché è forte E poi io dico Anzi spada bastarda così Oh mi piace e basta così E non siamo in fetto No non siamo in fetto E accetta perché la lancia pesa troppo Lo scrivo un attimo Bene anche poca energia e chiede No non è fetto Ok No non è fetto Stavo per andare nel falò Abitudine Ok Mente locale No non dimmi che devo andare nello scolo Cosa è lo scolo? Il pozzo infinito Questo? Sì E quelle due mandolini alla destra sembrano qualcosa? No Per abbia no Guarda tanto quando accende Perciò non farò Queste schemenie sembrano così nuove Sì un gatto che parla Tutto è normale in questo gioco Guarda il gatto Guarda il gatto Non è necessario che vada nello scolo però Però? Va bene no E c'è un'altra via Ok No perché sono di scendere magari talmate E' esatto Ma questo è quello che mi preoccupa A parte che c'è anche un tipo più avanti Che tu C'è il palettone qua maggiula Che però devi spendere alla bellezza di 12.000 anime Che ti mette una scala per scendere Aspetta un secondo Ti mette una scala che scende direttamente Benedizione divina Lo so a memoria L'ho fatto 20 o 30 volte Eh non me lo so Sono ricordato? Ah ok Da quant'è che stiamo andando avanti Aspetta Quando siamo con il gioco metà? E' il primo dei quattro falopi mondiali Vabbè ma magari gli altri due ti sono vicini Senti ma allora io dico Stasera Non facciamo tutto stasera No no Blocchiamo Ma questo qua si lo conosco L'ho visto Ti lo ammazziti la sua spada è forte Ma no ammazzalo Si ok ma no questo qua Oh che figo suo eh Non lo voglio Ammazzalo Ti dà solo la spada Diciamo guarda che questo qua C'è la sua di questo tipo Aspetta Qua c'è un masticciato lì Non è un reptà No è bruttissimo Ah quei mostri di dei cazzo Si sono bruttini Quanto sono brutti Perché è nell'uno nella città infame Infame? Si città infame E' infame C'erano dei mostri bruttissimi Però sta qua Tipo il collo enorme La testa non è grata Allora senti io dico qua 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 serve assolutamente la lancia E' benissimo se c'ha di lui da Con gli occhi giganti Ma ci ti maledicono? No Qua ti petrificano No Qua ti petrificano No Qua ti petrificano Però anche Si qua ti more sul colpo Se ti petrifica Cos'hai fatta sta qua? Era petrificata Ah è viva o morta adesso? Adesso è viva O se si si alza è morta È viva no Come fate se lo arlo? E' ramo perfumato del passato Ah Si tossisce Si tossisce Cosa ti dice poi? Grazie per avermi salvata Grazie per avermi salvata Grazie per avermi salvata? Si Eh vende piromanzia in pratica Aspetta io non ho neanche la fiamma della piromanzia Vabbè a parte che non abbiamo neanche volontà per Per fare un incantesimo Consigli equipaggiamento Dico Quella che non ci serve Variaghi Tunica dello straniero Gli chiede Dammi un abito perché Lo sa beh da Milfo o da Melfia? Melfia Ma beh prenditi a schiaffi Infatti noi diamo il suo equipaggiamento così lei che fa? Così lei si leva da qua e va a Maiola Ah no Così facendo se abbiamo delle robe inutili diamo a lei cerita quando vogliamo No Ah beh si E' tipo un magazzino E' un magazzino umano Forse Maggiula è in luogo ok E' li come nell'altare dell'altare Come nell'altare Aspetta Allora Aspetta un attimo Come nell'altare delle gambe del fuoco nell'uno No Merda Merda trappola trappola Pensavo ma si tanto andiamo fuori In trappola ma non in trappola Vincere vinceremo E' lo è il mus E' si quello Sai che siamo Sai che siamo messi trappola C'è anche AAAAAD No Tira giù il ratto Le tira finchè non esistono Non posso ritirarmi Ah beh tira da si Nell'uno ti maledicono Questi qui nell'uno Tipo sparavano Erano un po' diverse Ma ti sparavano una sottospesa Di come chiamarla Nuvola Si anche qua Ah e si gonfiano Tutti quanti sul collo Si Però qua invece ti sparano Maledizione E si Pietrificazione Anche nell'uno Ci sono mostri brutti Che avevano in mano Resti di altri umani Cadavere Copia incolla Ricicla Il riciclaggio Ma lei come ci aiuta? Ma lei cosa vuoi che faccia? Che cazzo Ma gli NPC sono rincoglioniti Ma salta addosso a una Buca agli occhi Trova ma gli tia Gli pugni Cazzo Cosa ti dice ora? Torna un culo Troia Non sei neanche al corda Allora mi ricordano Gli NPC di Skyrim Non so perché Che bella Ah ragazzi Combattono un drago Sono Skyrim Cosa ve lo dico La farmina C'era mettere giù il gioco E' stato il fatto Che c'era un drago In questa città Abbiamo Siamo partiti tutti quanti A ucciderlo Tutti quanti assieme Tutti quanti Sparano Di fuoco Poi le spalle Sato il drago Musica etica Assoluto combattimento Epico Il drago muore Si sta ancora decomponendo Questa guardia di cosa fa Della spada Che aveva dispone Ma non una torcia E dice Ehi giornate tranquilla Lì ho messo giù il gioco Serious man E no volevo ucciderlo Non per pietà Ma per odio Perché ho chiuso la porta Occhio che qua c'è un Ghirm Ho bisogno di privacy Pensavo si fosse decomposta E ormai Non so dai Usiamo la spada bastasta Siamo al 30% Tipo Oh madonna Non rompere le palle È un Ghirm È un Ghirm In pratica Mi trovi anche più avanti Oh Non ho mai visti questi qua Nei fatti sono difficili da trovare Sì No Pai Ho trovato sto qua E un altro È il modo di Ghirm Che bello Ah utile sto qua Mi sa È l'ultimo in classifica Cazzo quanto pesa Fa vedere quanto pesa Oh vado infetterò solo con questo È il primo ancora per la protezione Eh Guarda che per me è contato Va vedere solo com'è Sì è il primo per la protezione però Cazzotto Non sta neanche ma di Sì ma vado in fe Vado Sì ci bisognerà Da 68% Vado 84 Solo con l'elmo Ti rendi conto di quanto pesa L'armatura L'armatura da guerriero di Ghirm L'unica armatura che pesa più di quella di Avel Perché dovete farmi queste cose Vedi amati per odio Sì anche Anche per Anche Eh va bene Ti hanno un cazzo di anime Ma riuscito per odio Magari danno qualcosa di speciale Siamo speciali Sono Sono Eh no Non fammi ste battute Occhio a vedere una specie di trappola Ti farò una imboscata Ci sono due che ti sparano sassi Una domanda Se tu muori e ritorni al falò Devi risolvirti questa trappola di nuovo Sì sono nemici Boschi omorosi Ti ricorda il giardino La legge di oscura Di cosa? Di dare solo uno Scometo Sta stupendo il cadavere E stava per fargli un backstab E stava per fargli un backstab E ragazzi Prende la spada bastarda Ehm Chi è? John Stark Si chiama lo Stark che è il bastardo? John Cena Ah no John Snow John Snow La spada bastarda Bastardo Il bastardo Ma Ok Tiriamo Ah Sparano sassi Gli uomini del sassi Vi hanno preso i sassi Una bel battute che Di no Di come spargli Un po' Si va Che Che Però Mi vuole i sassi Tutta Il cazzo è tirato fuori Due Due che ti sparano i sassi Ma no Anche danni O eh O un sasso che fa più danno Di una sfera Di una freccia sparata da balestra Non che faccia tanto Ma cioè Le frombole Cioè Le frombole Cioè I cartaginesi Da legione sacra Cioè Di gestione Ragazzi I cartaginesi Dicevano questa legione Chiamata legione sacra Che è un esercito Con solo scopo difensivo E però Loro Nelle truppe Abbastanza delite Diciamo Un po' si fa a massacrare Che lui Come ogni esercito Però Doveva Era nato Per essere delite E dentro Ci C'aveva anche Oltre Di guerriere Ma c'era anche I frombolieri Che praticamente Sparavano sassi Diciamo Magari Più o meno Allo stesso effetto Di questi muscolosi Merda Sono in quattro E Ok 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 Quasi Cazzo se sono veloci Oh Ma scusa ma Ah no Il passaggio non è Crello Pensavo di sì Ci vorrebbe la colonna sonora Di Skyrim sotto La colonna sonora di? Skyrim Così Epico E' tutto più epico Ho perso l'energia Che testa di cazzo L'energia Com'è che l'ho preso Che era lontano un miglio Ok Ne abbiamo uccisi Quattro Senza morire Sei quasi al mio livello Su Dark Souls 1 L'hai finito senza morire E allora stai muto 10 volte è più difficile Ragazzi è più difficile Dark Souls 1 Dark Souls 2 Solo chi l'ha giocato entra Ah è vero Mi ero dimenticato Madonna mia Guarda stavo E' già pronto Qua ci ha tirato i ceffoni Sulla faccia E' già pronto a fermare Ok Allora di là Si va per No Guarda la spada Che non è che se la poggia Sulla spada Tiene così Ma io mi immagino Ma Ma gli spadoni in giga No Di qua no Cosa c'è già Il bo Una nebbia Io odio sto posto Ci sono i fantasmi Che sono Sono invisibili alla nebbia Una roba L'odio L'odio crescente nella tua mente Hai bisogno di ammazzare tartarugoni Ficché non ti troppi una corazza Anti backstab Allora io per sicurezza Non esploro un cazzo di sto coso qui Vado diretto alle rovine Ok Ok Io sto andando Ok Io sto andando No 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 ho paura Ok io sto andando Eh non ho visto uno Non ho visto uno Non si vede Non dargli la schiena Si dobbiamo Eh dobbiamo Cerca di sentire Non sento un cazzo Devo Eh evitiamo a caso Ok Si Prova a fare uno scatto No di qua c'è il nostro amico Venga il protetice Chi? E uno con le Ti vedo ti vedo Ciao Eh chi sei tu Ah Lasciami un passo No Ma un attimo Cosa è questo qua E una testa E me la puoi leggere? Oh no E uno speed Dobbiamo farla bene No No Ti lascia Non so come sia possibile Ma non è per così male E ora sarebbe per scura Dei giorni Se tutti Lo dicevano più No Che cosa mi piaceva Ma voglio avvertirti Una cosa Il mio corpo Ho delle visioni Il mio corpo privo di testa E in cura Senza di dire Il mio corpo in cui Nella mia spalla Una spalla affoggiata Sì tanto per uccidere Il mio corpo Che palle Si contare quella cosa Siamo indurata Stare a larga Ogni giorno Imparo cose nuove Cosi non avrei mai Appetito in battaglia E grazie a te Ho ricordato Le gioie Della conversazione Wow però Tu sì che sei un filosofo Se posso essere di aiuto Se ti serve qualcosa Chiedi pure Oh Mi avevi parlato Sto qua Che il suo corpo Claymore Spade un pesante Ok Niente Spade un pesante Ho detto lui Però Anche si sembra Felice a dire Per fare il filosofo Per pensature Vai era magico Guarda un attimo Mi faccio Oh porca puttana Hai rotto il cazzo Guarda un attimo È morto lui È fatta verde È una testa La testa di leone Quella che vedi Aspetta No aspetta Sbaglio Aspetta ma ti da Ti da un elmo Adesso Se vuole leggere No è che No Non ti faccio leggere Oh elmo di vengarvi Grazie Non ci hai già un elmo L'elmo lencino Aichelio Ma la fucker Sandor Claygain Stesso elmo Ma devi perché Deve fare i ferimenti Perché Sandor Claygain Stessa roba Manchete da viandante Eh no Devo usare cose Cos'è leggere Perché Perché Non protegge tanto Questo elmo Eh sì È l'unico elmo che abbiamo Quindi sì Quindi sì Allora Io ho paura adesso Perché Dobbiamo tornare lì Ok Che il potere del sole Sia con me Vai Sandor Claygain Vai Animo di cavaliere Allora Se non sbaglio Dobbiamo seguire Il contorno Il coso Come si chiama Sempre seguire i contorni Quando ci si perde I videogiochi ragazzi Please don't die Please don't die Please Ti prego non morire Ti prego non morire Ok Non ci possono backstabare Ficché siamo in movimento Quindi dico Qui 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 E qua Sono qua Sono qua Ok E va bene Ma conta che sei nella nebbia Non è che è scomparso Tutto il trattato Vai va avanti Va avanti Questa nebbia 1 2 3 stella 1 2 3 stella Perché qui ci sono maglizzato Rallento un po' Mi godo il paesaggio Che è l'idea di texter Ho visto Non posso muoversi a destra Un po' Fantasma Ok Questa parte è un po' Difficilino Ok I fantasmi sono Cazzotti Noi stiamo andando solo Amati i gemmi vitali Ormai Vabbè ma Non sono Dico Questa è poi Grande Possiamo usare La grande lancia Come sono messi Almeno Per quanto riguarda L'equipaggiamento Il suo stato Cazzo c'è lì Dietro una frafalla Eh sì sì Ma non è una frafalla Della luna Ve la ricordate Il primo Che roba Oh io provo questa La puoi uscire La vado uscire La vado uscire Vai Fa tanti danni Occhio che backstabba lui Eh Poi è pesante però Backstab Occhio Un degli spazi Noi c'è nana No Cazzuta Questa Qui Occhio Eccidere così Smegli di essere Noi c'è nana 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 Fatemi un piacere Sì Ok Sì ok ma Eh non pensavo Forse così lenta Sì Quasi Quasi Dico Spada Bastarda Sì Fa tanti danni Ma Quella di Cazzo 25 di forza Ti facendo Le riordinate In ordine Di danni Mettilo In ordine Di danni Che ci aiutano Decidere Praticare Non lo vuole No No E prendiamo tempo e basta Allora con questi qua che sono mobili Dico 60 qua Ma che tipo la gente Non deve essere speedrun Aspetta Abbiamo altri anelli Solo questo Solo questi Solo questi E questa qua Pezza Ma Ah ma ti fa portare più peso Questa qua Che ne so Ah boh mi vedo più peso O forse Sì sì è proprio questo Che ti fa portare più peso 71 Stiamo Abbiamo sporato di poco Sei il fatto Sì Se togli un NL Vedi che riesce a tratturare bene Togliamo le manichette No No è orribile Togliamo No L'elmo No Togliamo Togliamo L'arco No Cos'è sostituisci i gambali Con quelli da guardia reale Che fossero più leggeri Non sono più leggeri Stivoli da via Andante come fanno a essere più leggeri Quelli da spadaccino Ne sai Appunto Che ne sai Vedi qui Da povero Proprio Da povero Eh Sì Maglio Maglio Non rischiare Tanto è la c'è la città E costante Stivoli qui sono da Da viandante Tanto la città è costante Ma ne fa fare che ci sono Se uccidi Troppo una qualcosa Sì Tipo Tipo Non mi ricordo Tutto a memoria di sto gioco A me sembra di sì Invece Vaffio Eh maledizione Ci sono le cose che ti maledicono Ah sì Ma non so se contano con me Se fossi morto Ok No 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 Io ti giuro che ho una paura Di Un culo Contro il sistema Ok credo che dobbiamo andare Allora mente locale Dobbiamo andare di là No Eh no Eh No Però c'è un bosco A vicino E sotto c'è uno che ti fa le anime dei boss Ma noi non abbiamo le anime dei boss Vero Le ho già usate tutte Se non sbaglio Sì sì Non ci servono Merda 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 Oh io non sto nella maledizione eterna E non può backstabbarci se scurriamo No No Quello qua è morto pesante Ma scusa mi segue per sempre Quando faccio l'attacco quando si ferma Poi di che sono io che faccio schifo E impetti Che è il tuo che fai schifo Fai schifo su calo Io di non lo so dare Sei utile Sei sei No 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 Qualche rola tutto E io Non mi faccio fottere Allora dico qua Dobbiamo fare una specie di speeder Rampere Ok 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 se non ti passi in fianco Non ti notano Non ti passi in fianco Non ti maledicero E le urne maledette Ah ce le faccio vicino Ah invece non l'avevo visto Ok nessuno si segue E nessuno si segue Dislessico di merda Ok questo è il boss Chi sarebbe? Naika la regina scorpione Merda mai sentita Eee Vediamoci il filmato ragazzi Non c'è un filmato No No Anche nel luna a volte c'è un filmato a volte no Io dico lancia Perché la lancia salva tutti Facavi ridere il personaggio sotto a quella maschera E' carino guarda Please Help me Please Non kill me Ok Allora Potrebbe salvarsi la vita un giorno E mettere uno Stile Deve Deve Stivali migliori Esatto Quindi Affrontiamo Affrontiamo Naika la regina Ah cazzo sta qua fa danni Fa anche danni da magia Ah vabbè grazie a Dio sono schivabili Dove c'era la barra della vita? Qui Aiuto Oh mio dio mi ricorda Esatto La cosa ragno del primo ragazzi Stessa roba Stesso concept Ragazzi Donna Con un'arma lunga A catacca aranjo Aranjo Sopra un coso che ha più di 6 zampe Giusto per rompere tanto il cazzo Aiuto Terreno non credo No siamo fregati qui Non credo che riusciremo a finire la vita Non passeremo questa notte E non riesco a colpirla Io vado Sì sto passo Non usciremo mai Cazzo è vero la vita Dovevo fare quello Eh ti prego veloce dai E ci metteremo un po' Però credo che ci riusciremo So dove stare Vedi qui Ah perché disposto Eh va nella sabbia Ma qua non stiamo nella sabbia Ah e c'è da sotto dietro C'è da sotto giusto Sì Ma vedi 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 la sabbia che si muove Cazzo allora E tu stai Questa è un cosa genere andare così tanto sotto Ma io che ne so Quando è preso andata la sabbia qua sotto Avido Avido di attacco Dove dobbiamo finire dentro oggi questa battaglia Allora queste qua sono lance dell'anima Vedi gli alberi Vedi gli alberi Non è stata mai che ti vede Però vedi che mi tolgono Però Eh volevo stavo per farlo ma mi ha visto che toglieva Non è una regina anio Che lei c'ha i capelli Eh di Protetti Protetti dai capelli Ah coperti dai capelli Eh se no devo aver censurato tutto No Allora mi pia Eh sì stiamo andando un po' a rile Eh Ento Questa parte la Oddio non so perché va Questa parte mi è sempre stata Nelipatica Ah sì è giusto No no tutta la parte Anche quella delle rovine È stata più veloce di quanto mi aspettassi però Ah sotto c'era No dovevamo avere l'anello Caralho me lo aspettavo Dovevamo avere un anello C'è sotto uno tipo scorpione che è qua Ma se tu li pari normale Non so se non ti sente Tipo non so se non ti sente Non riesce a capirlo Ma ti serve l'anello dei sussuri Che tu riesce a sentire anche la sua voce E ti aiuta con questo boss Ma come tutti E resterà fermo a prenderle Perché gli aiutanti fanno questa Oh e mi sa che sei un po' arrabbiata A noi non ci avevamo Uno è andato È andato Come abbiamo fatto Non ci avevamo Quindi che nessuno deve evocare qua Nessuno Nessuno Ho sbaglio o un colpo E' una faccia Ti mandano tutti gli aiuti che vuoi Non più è difficile E' una faccia Osserva E' visto che comunque con un corso di scorpione è andato Sì Dobbiamo colpire davanti però Eh no dobbiamo colpire il corso di scorpione Così facendo non colpisce più con quello Ok ho fatto tre boss senza morire Due o tre Ho fatto Sì tre boss E mi ero girato in una in un'azione proprio inconsapevole Ho fatto tre boss Pensi che non riusciano a vedere anche te Eh? Eh? Comincivi ad essere più difficile Non fare lo strano Abbiamo avvocato Ci rendi Li abbiamo evitati tutti Ti Oddio Pio Non hai la bestia di Medio Pio perché Dio Allora Quella Quella mossa Mi ha spaventato Eh benissimo No quella mossa lì Eh A me non me la ricordavo più Forse sarebbe una buona tattica La lasciando in vita Quell'altro bugiglione Perché quando voglio a fare che un bugiglione E tanto lei Stavo pensando a chi questo Infatti era un po' riluttante l'idea Perché lei ovviamente se colpisce con un colpo Non colpisce anche con l'altro Vero? Merda L'abbiamo sopportato È come se colpisce me Questo personaggio ormai sono io da quanto ci gioco Ah Stava di danno Non lo so Non ho mai mai preso Non ho voglia di scoprirlo oggi Ah no Vuoi scoprirlo Vuoi scoprirlo E allora Vedi che siamo tutti contenti Se non ci prendere Perché rischiare Si sto rischiando Non farei È blu Cosa cazzo vuoi È un nuovo tipo di po' Ok ok Dobbiamo stargli lontano Perché così abbiamo il tempo di schivare Non abbiamo avuto il tempo di schivare Eeeh Ero 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 senza guardia Quando mi stava per colpire Avanti colpisci mi No Col 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 Pungiglione Dai Veloce Sto aspettando il pungiglione Non avevo la guardia su Quindi non faceva niente Guarda con te che siamo qua Con la boss fight No ma neanche adesso Non voglio scoprirlo oggi O adesso Ok ora si gira intorno Tipo squalo Solo che questo qua non è uno squalo Ma uno squalo Pione nella sala Non c'è una musica di squalo Non me la ricordo Colpito Colpito Ok mancano pochi colpi Apparente si voglio colpi Non è Vabbè ok Non dobbiamo essere Merda Ne avidi Ne pirla Cazzo le sta caricando tutte Fa una ricetta calore Quasi Però Apprezzo Apprezzo la buona volontà Avanti No 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 Quando ci colpisce col Col pungiglione Andiamo Ci mettiamo Ci stiamo mettendo Qualche secolo Però Non so se dire colpiamo Ma stiamo in guardia Oppure No no Col pungiglione no No non col pungiglio E basta No Ora mi sale il Cremine Va bene Dai 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 Quando risorge lenta Ti vedi un colpo pesante Si lo so È pesante Era pesante E' andato Bravissimo È andato Però se mi è possibile Polemicare Non era niente Rispetto alla regina Lagno del primo La regina lagno del primo E non Non è E basta Basta così Non voglio dire nient'altro Ti ricordi la spina Non è male Secondo me Sblocchiamo qua Sai che dobbiamo ribatterci Tutti i nemici Eh lo so Aspetta Il tiz Ah no Ci aiutava Con il cosa dello specchio Non stiamo andando Ah la curata Ciccione di nani Cazzo Qua è pericoloso Pro I nani I nani Oh mio Dio La canzone di Richard Benson Sono ragazzi Eh Le spugneranno sti qua poi Sì Sono elefanti Giganti Ah no Ma sono dei nani La I nani Eh guardalo poi da vicino E dimmi se è un nano Eh non so L'avevo visto bene Che l'avevo visto Una forma Ma non sono Stati fortissimi Però Anche se L'hanno uno scudo Fighissimo Ci avevo No E' dal castello Di Trangli Cazzo Sono in due Sono in due Sono strafato bene Per aver bisogno Sti qua Io non so Come sono stati creati Qua è magia Però sono belli A vedersi Fanno anche tanti danni Mi sa Guarda Quanti imponenti Imponenti C'è pare una roba Ragazzi ora spacco tutto Invece ne cazzate E pesano Imponenti 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 Di quelli di giganti No Guarda là c'è un gear Mi sa che si Guarda qua che c'è un gear I nani I nani Di Jalbenson Madafucka Rispona qua E' sto qua Si Sono nemici normali Guarda il martello Che è più grande di lui Al momento Ah sti qua Sono i guerri Sai cosa Guarda che Vabbè Patti che i gear Ma sono Ti dirò qua anche L'oro scudo E' la loro arma Si Ah figo No E' il loro scudo Vedi quello là Quello che aveva trovato prima E' quello lì Rispone Sto qua Quindi Sai che si Poi tienilo in palazzo Non lo buttare a terra Usi come bandiera Oh io Io sto riparato Ma danni in cugine L'hai rubato il fabbro Bastardo Ecco perché non riusciva Stronzo Rilagliela Oh Gli lo consegnerò di persona Ah poi la loro grazia Che la persona che lo fa Ok Mimic Porta fortuna del drago Amuletto Vediamo che fa Non è un Eh no E' un E' un oggetto qualsiasi E' boh Io non li ho mai usati Ok di qua Dovremo andare Alla cava Pietra lucente Di Celdora Non ti dico cos'è Cava Pietra lucente Che poi quelle Ah c'è il boss Il regno gigante Quelle statue Si scopre che le produce Un boss giusto No non è che le produce In pratica Il quello Il voto Il putrido Prende tutto quello Che buttano nel pozzo Che sarebbero Tipo delle statue Prende tutto quello Che la gente non vuole E' tipo La lisa Perché lui vive Tipo dentro Una discarica Il pozzo E' una discarica Odierna Ora ora guarda Guarda che cazzuto Che viene a pugni Guarda Proprio Proprio Maschio alfa Così Fa tanti danni No Una volta mi ha preso Mi ha fatto abbastanza danni Abbiamo Taaaaa Ma sono anche nani Ma sono alti come te Esatto Non sono nani Compolzionati tra altezza e larghezza Beh non sono Non sono nani Ma credo che qui l'antra Forse la corrente Si fa tagliere No No A parto che non mi serve Dice un aldogheer Ma merci Guarda qua Il luogo peggiore Per combattere uno di questi Ma se tu mirando Colpisci lo scudo Non fa danno Giusto? In che senso? Cioè Se tu devi mirare con l'altro Il colpisci lo scudo Non fa danno Dobbiamo scopirlo E' pessimo Mossa dare le spalle Aveva colpito col martello E aveva fatto il giro Qua loro corazza Quando la indossano loro Sta anche bene Ma quando la indossi te Proprio Devi creare un personaggio ciccione No Siamo una lampadina Eeeh Siamo stretti in basso E larghe in alto Ok Qua siamo le porte di Paros A me sembra il contrario Larghe in alto Stretti in alto E larghe in basso Aveva qualcosa di Dove siamo Siamo alla cava Pietra lucente Voglio che c'è una persona Oh Si Ci sono i falconieri Ah ok Amichevoli o nemici Nemici Ah ok Quindi di qua Andiamo di qua E rispondono Si Quello là è un accampamento Quindi La strada giusta di qua Però Io non voglio rischiare Aspetta un secondo Quindi i falconieri Sono mercenari bastardi Si Vuoi dire che comincia a capirlo Ah e di qui Gli sono resi schiari quindi Si Qualcosa di simile I contadini Si L'ho buttato giù io Si Ma guarda che sono Guarda sono resistentissimi Guarda E' stato divertente La riferiamo più avanti Non so come Intanto sta prima caricata Come si chiamerà Dark Souls run senza morire Prima tentativo Prima Prima tentativo Abbiamo una eh Oh mi mancavano Ah mi mancavano Ah mi mancavano Ok cazzo Ci si rimane male Però come si porta la macchina Roba per tanto tengo Per la puttana Esatto Vabbè Cazzo Peccato Guarda la lancia che Poi è proprio stato In modo stupido Perché potremmo avere Certo Non una cinga di madonna Però si potrebbe evitare Esatto Poteva bene E rifarciamo un'altra volta Abbiamo passato la guardia Troppa Che Almeno Le prossime volte Sappiamo cosa aspettarci Ok Vabbè Interrompiamo qui Supportateci E ciao a tutti